Il motivo che devo costruire una clinica missionaria Le cose sono cambiate Chi desidera guarire da tumori, polipi, maligni, benigni, fibroni, ai polmoni, problemi al fegato, al pancreas, indestini, urcela Di qualsiasi tipo, male e problema diabetico Dolori articolari Mal di schiena, gambe, ernia, addisco Problemi, ictus di ogni forma Problemi di ansia Anche asma Problemi di depressione Cronici Va tutto sotto controllo di Dio, Gesù Tutto questo viene curato non dalla sera al mattino Ma con il suo giusto tempo del Signore Gesù Che si serve del fratello Angelo Picone Perciò prendete numero di telefono Fate un'offerta al mio conto numero IBAN Che lo troverete nel mio sito E cercatemi in Youtube a nome Angelo Picone Che mi troverete esclusivo dove mi vedete con la foto Che con mia moglie Margherita A motivo che ho molti profili Non ho tempo di caricarli tutti Con questo vi benedico nel nome santo di Gesù Siate comprensivi che ogni cosa è fatta Secondo la volontà di Dio Chi coopera Un giorno vedrà la gloria di Dio Se non subito Mentre Sta facendo la gloria di Dio A Dio si la lode E la gloria in Cristo Gesù Che è benedetto in eterno Amen Alleluia Gloria al tuo nome Signore Santo sei Because I have to build a missionary clinic Things have changed those who wish to heal from cancer, malignant and benign polyps, fibrins in the lung, liver problems in the pancreas, intestines or cella of any type, sickness and problems, diabetes, joint pain, back pain, legs, herniated disc problems. Problems, Icidus of all form, anxiety problems, even asthma, chronic depression problems, everything is under the control of God and Jesus. All this is treated not from evening to the morning but with his right time of the year. Lord Jesus who uses his brother Angelo Piccon so take my phone number site and make an offer to my account IVAN number. You will find it on my site in a photo www.kisulaluketalmondo.it and look for me on YouTube under the name Angelo Piccon. You will find me exclusively where you see me with the photo with my wife Margarita for the reason that I have many profiles and I don't have time to upload them all. www.kisulaluketalmondo.it www.kisulaluketalmondo.it www.youtube.com slash at Angelo Piccon 9356 slash videos. www.kisulaluketalmondo.it www.kisulaluama.it www.kisulalulevant.it www.kisulalu勆äimum.it www.kisulaluoku oderimensionado.it www.kisulalu色 self-pub, spukymanum.it www.kisulaluedge.com slash at&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&$%&&&%&%&%&%&&%&%&%&$%&&%&%&$%&%&&%&%&%&&%&&&%&&%&&%&%&%&&%&&&%&&%&%&&%&&%&&%&&%&&&%&%&&%&&%&%&&%&&%&%&& dios y de jesús todo esto se trata no desde la tarde hasta la mañana sino con su tiempo derecho del señor jesús que utiliza a su hermano angelo picone así que toma mi número de teléfono del sitio y haga una oferta a mi número y van de cuenta lo encontrarás en mi sitio en una foto www.jesulalucedelmondo.it y busqueme en youtube bajo el nombre de angelo picone me encontrarás exclusivamente donde me ves con la foto con mi esposa marguerita porque tengo muchos perfiles y no tengo tiempo para subirlos todos www.jesulalucedelmondo.it youtube profil angelo picone link http siglo 2 puntos barra barra 3 y us dobles punto youtube punto com barra arroba angelo picone 9 3 5 6 barra vídeos 10 6 barra porque hay que construir una clínica Missionnaire Les choses ont changé Ceux qui souhaitent guérir Du cancer Polype malin Et bénigne Fibron dans le poumon Problème de foie Dans le pancréas Intestin Ursula De tout type Maladie Et Problème Diabète Douleur articulaire Douleur de dos Cernie Disque des jambes Problème Iquitus De toutes les problèmes D'anxiété Même l'asthme Les problèmes De dépression Chronique Tout est sous le contrôle De Dieu et de Jésus Tout cela est traité Non du soir au matin Mais avec son bon temps Du Seigneur Jésus Qui utilise son frère Angelo Picone Alors prenez mon numéro de téléphone Du site Et faire une offre sur mon compte Numéro Iban Vous le trouverez sur mon site Dans une photo 3w.g.sulalusdelmondo.it Et recherchez-moi sur YouTube Sous le nom d'Angelo Picone Vous me trouverez exclusivement Ou vous me voyez avec la photo Avec ma Femme Marguerita Car j'ai beaucoup de profils Et je n'ai pas le temps De tous les téléchargés 3w.g.sulalusdelmondo.it Youtube Profil Angelo Picone Link HTTPS2.w.sulalusdelmondo.it www.youtube.com Slash Arrobas Angelo Picone 93 5 6 Slash Vidéo Weil ich eine Missionarklinik aufbauen muss haben sich die Dinge verändert Die von Krebs heilen möchten Bösartige und gutartige Polypen Fibbonen in der Lunge Leberprobleme in der Bauchspeicheldrüse Darm Ursula jeglicher Art Krankheiten und Probleme Diabetes Gelenkschmerzen Gelenkschmerzen Rückenschmerzen Beine Bandscheibenvorfall Icetus Alle Formen Angstprobleme Sogar Asthma Asthma Chronische Depressions Probleme Alles steht unter der Kontrolle Gottes und Jesus Alles wird nicht vom Abend bis zum Morgen behandelt Sondern mit seiner richtigen Zeit Sondern mit seiner richtigen Zeit des Herrn Jesus Der seinen Bruder Angelo Picone verwendet Also nehmen Sie meine Telefonnummer auf der Website und machen Sie ein Angebot für mein Konto Iban Nummer Sie finden Sie auf meiner Website in einem Foto www.gesolalo.cetelmundo.it Und suchen Sie mich auf YouTube unter dem Namen Angelo Picone Sie finden mich ausschließlich dort Wo sie mich mit dem Foto sehen mit meiner Frau Margareta Weil ich viele Profile habe und nicht die Zeit habe Sie alle hochzuladen www.gesolalo.cetelmundo.it 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 www.gesolalo.it Contemplando la grandezza del tuo amore Prostrandomi ai tuoi piedi adorerò Ricevendo la tua grazia nel mio cuore Io so che c'è potenza nel tuo sangue Che in quel dì i miei peccati ha perdonato Ed io dichiaro Gesù Nome al di sopra di ogni altro nome Non c'è, non c'è nessun altro come il mio Signore Morto per me Al posto mio E' uscito Ritornerà La sua chiesa rapirà Saremo con lui per l'eternità A piedi della croce io starò Contemplando la grandezza del tuo amore Prostrandomi ai tuoi piedi adorerò Ricevendo la tua grazia nel mio cuore Io so che c'è potenza nel tuo sangue Che in quel dì i miei peccati hai perdonato E io dichiaro Gesù Nome al di sopra di ogni altro nome Non c'è, non c'è nessun altro come il mio Signore Che in quel dì i miei peccati ha perdonato Per l'eternità Per l'eternità Gesù Nome al di sopra di ogni altro nome Non c'è, non c'è nessun altro come il mio Signore Lui è morto per me E al posto mio Risuscitò Alleluia Lui ritornerà La sua chiesa rapirà Saremo con lui per l'eternità Lui è morto per me Lui è morto per me Al posto mio Risuscitò Il terzo giorno Alleluia Lui ritornerà La sua chiesa rapirà Staremo con lui per l'eternità Staremo con lui per l'eternità Staremo con lui per l'eternità Lui ritornerà E andare E andare In una allora Dì Lui ritornerà Dì C'è nessuno I La C'è nessuno Per Dò